Ciao a tutti e grazie come sempre per seguire il mio canale. Inizia un nuovo mese, un mese importante, un mese decisivo per sviluppare le strategie estive del mercato juventino e quindi è un mese in cui non si può mai sbagliare nella vita perché la Juve ha tante cose da fare per rinforzare l'organico e non può tergiversare, non può perdere tempo. E' confermatissimo il blitz di oggi, targato Federico Cherubini, il direttore generale della Juventus, sbarcherà in queste ore a Londra. Questa sera, come ben sapete, in quel di Wembley si disputerà la finalissima tra Italia e Argentina e quindi l'occasione giusta, a proposito di Argentina, di parlare di un esponente illustre dell'Albi Celeste, ovvero Angel Di Maria. Obiettivo ormai chiacchieratissimo sotto la lente bianconera, però in giornata, in questo confronto che ci sarà quindi tra Cherubini e l'entourage del Fideo è normale che possa emergere poi la verità sovrana, o quantomeno capire concretamente se si stia andando verso l'accordo o seppure questa trattativa non sa da fare. E' difficile fare un processo alle intenzioni, sappiamo perfettamente come la Juventus sia molto intrigata dal livello qualitativo in primis di questo giocatore, ma anche dal punto di vista della leadership perché la Juve, l'ha detto anche Max Allegri nell'ultima intervista rilasciata da Zon, intervistato dal suo ex calciatore nonché grande amico, qua non è ex perché il rapporto tra Allegri e Barzalli è ottimo e quindi evidentemente la Juventus ha l'obiettivo innanzitutto di colmare il più possibile le lacune di un organico che ha evidenziato limiti strutturali piuttosto evidenti nella stagione a poco conclusa, sì però ha anche la ferma volontà di alzare il livello di attributi che è un aspetto poi necessario quando il pallone scotta e quando soprattutto se la Juve perché la Juve deve ripreparare qualsiasi partita, in qualsiasi competizione con un solo obiettivo, vincere. Quindi vedremo, sapete perfettamente come poi probabilmente la partita nel campo centrale tra la Juventus e Di Maria si stia disputando dal punto di vista contrattuale. Di Maria è stato molto chiaro, molto schietto, molto sincero, lo ha ripetuto anche nelle ultime interviste e vuole farsi un'ultima andata in Europa in un top club, in un top campionato per preparare al top il mondiale dopodiché l'obiettivo è tornare in Argentina più dettagliatamente sfoggiare la casacca del rosario central. Vedremo, vedremo quindi cosa accadrà oggi in questa chiacchierata tra la Juve e gli agenti di Maria. La Juve ovvio deve fare una valutazione differente perché fare un contratto annuale, nudo, puro e crudo, non ti consente di usufruire dei benefici del decreto crescita perché per usufruire dei benefici del decreto crescita il lavoratore che proviene dall'estero deve firmare quantomeno un contratto biennale e quindi da questo punto di vista la Juventus credo che oggi se la volontà di Di Maria dovesse essere ancora voglio un anno di contratto potrebbe essere quella di chiedere uno sconto, cioè non ragionare sui 7-8 milioni netti bensì dire ok caro Angel tu vuoi fare solo un'ultima annata in Europa va bene così però noi 7 milioni netti non te li possiamo dare te ne diamo 4 e mezzo, te ne diamo 5, ora sto dicendo cifre completamente a caso vediamo, vediamo cosa succede però è importante che ci sia un po' di carne al fuoco perché abbiamo raccontato in lungo e largo questa trattativa, questa suggestione e il fatto che comunque le parti oggi siano pronte a incontrarsi nella capitale inglese quantomeno sottolinea come il fronte sia più dei roventi poi le trattative, l'esito, gli esiti delle trattative vengono caratterizzati ai movimenti diretti interessati non possiamo avere la presunzione di sapere anticipatamente come finirà questa vicenda ma possiamo avere la presunzione di raccontare ciò che dovrebbe accadere anzi ciò che cadrà l'incontro perché ve lo ribadisco come vi ho detto in apertura non è confermato ma confermatissimo sarà confermato anche Mattia De Sciglio perché era un po' calato diciamo il buio su questo nome considerando poi come la Juventus avesse avviato tutto l'iter legato ai rinnovi sì o no sì quello di Mattia Perin, sì quello automatico di Juan Quadrado no Federico Bernardeschi, no Paolo Di Bala e su De Sciglio io per primo avevo detto un mese e mezzo fa che a me risultava come le parti avessero trovato un'intesa a livello economico fino al 30 giugno 2025 ieri ho lavorato con i miei colleghi di gol su questa traccia abbiamo avuto altre conferme ovvero resiste resiste l'accordo tra la Juve e De Sciglio per questo rinnovo fino molto probabilmente al 30 giugno 2025 cosa manca? manca la firma però non dovrebbe esserci nessun giallo dietro nel senso che la Juve probabilmente si è presa del tempo per valutare ulteriormente il fronte il ragazzo ha sempre dato l'assoluta priorità alla permanenza alla Juventus per rimanere alla Juventus si taglierà anche sensibilmente l'ingaggio adesso non voglio dirvi cifra a caso però secondo me si va su un taglio davvero pesante pare che De Sciglio guadagnasse attorno ai 3 milioni netti cifra sicuramente importantissima per un calciatore che non è imprescindibile però credo che si stia andando verso un 40% abbondante in nero se non 50% e probabilmente poi qua la differenza viene fatta anche dalla stima datata di Max Allegri in confronti di De Sciglio suo pupillo già è mio poi l'ha voluto anche la Juventus De Sciglio è andato via quando non c'era Allegri torna Allegri torna anche De Sciglio non è un caso però anche ieri io personalmente ho avuto conferme sia da lato zona bianconiera sia da lato zona calciatore di come la firma sia destinata a arrivare qualcuno mi ha detto che potrebbe arrivare già in questa settimana e se così fosse l'annuncio poi sarebbe automatico però De Sciglio si avvicina grandissimi passi verso il rinnovo è una no notizia perché ribadisco un mese e mezzo fa proprio qua sul mio canale YouTube vi avevo detto che l'accordo era stato trovato poi Paolo Di Bala ha fatto la scuola perché anche con Paolo Di Bala l'accordo era stato trovato e poi come ben sappiamo si sono separate le strade tra l'Argentino e la Juventus dopo sette stagioni non dovrebbe emergere un copione analogo per De Sciglio la volontà comune è quella di andare avanti di far rispettare questo patto e quindi di arrivare rapidissimamente alla firma capitolo Juve Toro perché ragazzi non è scattato e ve lo confermo l'obbligo di riscatto per i Granata sul fronte sul fronte Rolando Mandragora il Toro vorrebbe tenere Mandragora ma è a caccia di uno sconto a caccia di uno sconto tra l'altro credo che se si fosse realizzato poi che si fosse andata in scena questa opzione questo diritto d'acquisto il Toro avrebbe dovuto versare 9 milioni nelle case della Juve e il Toro questa cifra non vuole investirla sul fronte a Mandragora è a caccia di uno sconto bisogna capire penso che la Juventus non abbia fretta perché Mandragora è un giocatore che può avere mercato un giocatore che non ha un ingaggio faraonico un giocatore che ha fatto abbastanza bene al Toro soprattutto con Juric e quindi non è assolutamente scontato che Mandragora resta il Toro questo è in Granata vorrebbero tenerlo ma sono a caccia di uno sconto e bisogna capire quando le due società si parleranno se troveranno un'intesa chi sicuramente non resterà al Toro e tornerà alla Juve con cui non ha un contratto a tempo indeterminato ieri mi avete fatto questa battuta su Twitter ho reso tantissimo ho reso davvero piegandomi e Marco Piazza perché Marco Piazza ha un contratto fino al 30 giugno 2023 aveva spalmato in precedenza il Toro non lo tiene e bisogna trovare anche lui una collocazione considerando la scadenza al 30 giugno 2023 a meno che la Juve non decida nuovamente rinnovargli il contratto in maniera definitiva quindi anche qui altro giro altra annata così così era partito molto bene Piazza al Toro poi man mano si è spento ha giocato poco è finito anche fuori e il Toro altri obiettivi e sicuramente non acquista il suo cartellino dalla Juventus insomma ragazzi oggi non escludo un doppio video anche perché è cosa buona e giusta cercare di capire cosa si diranno la Juventus e l'entourage di Maria appuntamento oggi a Londra De Sciglio 2025 manca solo la firma ma anche ieri conferme sul fatto che si farà mentre capitolo uscita la Juve su Mandragora deve decidere deve decidere se fare un passo concreto verso il Torino oppure legittimamente e giustamente cercare nuovi acquirenti per non svalutare comunque un calciatore che in Serie A ci sta e come mentre Piazza torna a Torino momentaneamente non rientra nel progetto tecnico assolutamente di Max Allegri ha ancora un anno di contratto con i bianconeri però questa volta il cordone ombelicale è da tagliare in maniera definitiva mi raccomando ragazzi voglio caldi perché inizia a scaldarsi questa sessione di mercato per la Juve finalmente e quindi viviamola assieme viviamola qua sul mio canale YouTube iscrivetevi mettetemi il vostro like ai contenuti e azionate la campanella per rimanere aggiornati sui miei movimenti su questa splendida piattaforma grazie a tutti